Entri e fai doppietta, è la domenica perfetta anche se sei partito dalla panchina. Sì, sì, è una bella domenica, soprattutto per la vittoria perché ci venivamo tanto. Poi è chiaro che entrare, fare due gol e far vincere la squadra per me è un motivo di orgoglio e sono felice di questo. Cosa c'è in questi due gol? Grinta, voglia, fame, riscatto anche? Ma c'è tanto lavoro, poi soprattutto per me che sono venuto da un periodo difficile, sono stato sette mesi fermo, rientrare comunque non è mai facile, sto rientrando, sto mettendo a disposizione del mister e questi due gol per me valgono tanto. Ficciarlinska adesso sta crescendo, sono due le vittorie consecutive, non perdete da tante giornate, c'è ancora voglia di scalar la classifica? Sì, ma noi ci siamo promessi di guardare partita dopo partita, ci stiamo allenando bene, è un gruppo che lavora bene, ha otto partite che non perdiamo, oggi è la seconda vittoria consecutiva, credo che ci sono tante cose positive da questa partita. Però bisogna pensare subito a quella di sabato che è un'altra partita tosta, un derby, quindi testa bassa e lavorare. Sì, hai detto bene, sabato c'è un derby, intanto vi siete sbloccati che come gol perché l'attacco è tornato a segnare anche grazie alla tua doppietta e adesso testa al derby. Sì, sì, adesso si riparte, classica settimana di lavoro e si torna a fare quello che abbiamo fatto sempre, lavorare bene, star compatti, uniti, che alla fine le soddisfazioni arrivano per tutti. Grazie a tutti.